E' tempo di foto, è tempo di post, è tempo di ricominciare, è tempo di primo impegno ufficiale, quello della Coppa Emilia che vede gialloblu di Nova Feltria impegnati sul campo della corazzata Berucchio. Rossanero che ripartono dalla conferma del tecnico Costa che nel precedente torneo ha sfiorato la promozione più ad abbandonare il sogno lasciando il passo a Misano ed infine a Petracuta. Zavattini rappresenta il fiore all'occhiello di una campagna acquisti mirata, mentre dall'altra parte Nova Feltria conferma la squadra dello scorso anno, eccezione fatta per i portieri Semprini, arrivato dal San Termete. La vera novità però arriva dalla panchina, Achille Fabri lavora sul gruppo dando allo stesso la sua forma, la sua impronta. Il Berucchio mette in vetrina l'ex juniores del Sant'Arcangelo Michili, devastante in certi momenti del match come quando sfonna al centro all'undicesimo un assist per la testa di Zavattini che mette a lato. Un giro di lancette e Stefanelli a cercare l'euro gol da 35 metri sfiorando l'incrocio dei pali. La squadra di Fabri si rende nuovamente pericolosa con Rinaldi che centra questa volta dalla distanza una clamorosa traversa. Ancora i giallobru protagonisti al venticinquesimo mancano di poco il vantaggio, gol riserve Stefanelli che opta per la conclusione di punta mettendo fuori di pochissimo. Risponde il Berucchio dall'altra parte, minuto 37 con Michilli che in aria, decentrato sulla sinistra, chiama Semprini a una difficile parata a mani aperti sulla potente conclusione di destro. La palla poi arriva a Bruma che appena è entrata in aria calza alto sopra la traversa. E preludio al gol, pregevole frittante di Mazzocchi che serve Michilli per vie centrali. In sospetta posizione di fuorigioco l'attaccante controlla e di piatto infila l'incolpevole Semprini esultando alla sua maniera. In finale di prima parte di gioco padroni di casa vicinissimi al raddoppio con i tentativi rispettivamente di Mazzocchi e Michilli che non inquadrano la porta difesa da Semprini. A inizio ripresa è nuova fete a rendersi pericoloso con un cross di Cupi che trova Gori in aria, il gruppo di testa è alto. La risposta rossanera arriva da Zavattini che con una progressione devastante porta spasso a mezza difesa prima di vedersi infrangere suoni di gloria personale dall'attento Semprini, Vera, Saracenesca. Dal possibile 2-0 al pari ospite, Fraboni dalla distanza pennella una punizione innocua che diventa veleno per la porta di Maggioli quando causa un rimbalzo valigno la sfera si infila dritta dritta in rete. Per Fraboni si tratta del secondo gol su punizione dopo quello dello scorso anno realizzato a Misano in casa del Real Miramare. Semprini a questo punto diviene ancora protagonista quando respinge un tentativo dello scatenato Michilli e chi se no. Il Nuova Fertia però non rinuncia a rendersi pericoloso impegnando Maggioli con un colpo di testa di Stefanelli. Ancora l'attaccante samarinese nuovamente protagonista quando interviene su un'altra traiettoria velenosa ad opera di Lorenzo Fraboni senza però incidere. Il Nuova Fertia chiude in 10 per il doppio giallo rimediato a Lorenzo Fraboni ma la gara non conosce i nuovi risvolti da entrambe le formazioni si dividono un punto a testa.